Peugeot Partner è stato un veicolo commerciale di grande successo per la Casa del Leone negli ultimi 20 anni. Ne sono stati realizzati quasi un milione e mezzo di esemplari. Oggi si presenta totalmente rinnovato, il nuovo Partner qui al nostro fianco. È un veicolo che è stato disegnato partendo da zero e che incarna perfettamente quello che è lo stile Peugeot, con una calandra molto verticale, con al centro il logo del Leone, e soprattutto con la firma luminosa dei gruppi ottici ben distinguibile, come è una vettura che riporta il logo del Leone sulla calandra. Adotta poi per la prima volta il Peugeot Cockpit, quel concetto rivoluzionario ideato dalla Casa del Leone, che è costituito da un volante di dimensioni ridotte, un quadro strumenti visibile al di sopra della corona del volante e un touchscreen centrale attraverso il quale si comandano le principali funzioni. È un concetto che è stato apprezzato da oltre 4 milioni di clienti nel mondo. È un elemento che contribuisce a elevare quello che è il piacere di guida, perché è vero che è un veicolo commerciale, ma vogliamo solcare quello che è la nostra tradizione in termini di piacere di guida anche sui mezzi da lavoro. Il nuovo partner poi adotta una grandissima dotazione tecnologica fatta di sistemi di assistenza alla guida. Pensiamo uno fra tutti, l'Active Lane Departure Warning, quel sistema che mantiene il veicolo all'interno della carreggiata, evitando il superamento delle linee laterali di demarcazione. Ma sono due le novità importanti portate al debutto nel segmento da Peugeot Partner. La prima è il Surround View Monitor, un sistema che permette una grandissima visibilità anche in un veicolo commerciale che è spesso e volentieri alle porte lamirate, permettendo oltre alla visione posteriore del mezzo anche quella laterale, quindi ideale in caso di immissione su strade che non siano perfettamente perpendicolari. L'altra novità davvero molto apprezzata, noi pensiamo possa essere apprezzata dai nostri clienti, è l'indicatore di carico. È un sistema che permette in tempo reale, dalla parte posteriore del veicolo o addirittura all'interno della plancia, del quadro strumenti, di visualizzare se il veicolo è caricato entro i limiti della portata del mezzo stesso oppure se cede. Questo per garantire un livello di sicurezza e soprattutto di guidabilità, ideale e secondo tradizione per la Casa del Leone, ma soprattutto permette di evitare sanzioni eventuali qualora dovessero essere fatti dei controlli da parte delle forze dell'ordine. È un veicolo che è disponibile in due diverse lunghezze, 4,40 m o 4,75 m, con una capacità minima in termini di carico di 3,3 m3 che arrivano fino a 4,4 m3 nella versione lunga L2, quella da 4,75 m. Questa versione poi oltretutto è acquistabile anche in versione doppia cabina mobile, questo significa che si può modulare a piacimento quello che è lo spazio destinato al vano di carico rispetto a quello che sono il numero dei passeggeri ospitati a bordo, perché la versione doppia cabina mobile può portare 4 persone o se si desiderasse portare più carico rispetto a persone, si può modulare appunto la cabina reclinando i sedili della fila posteriore e spostando un'apparatia che va ad ampliare quello che è il vano di carico. Una novità davvero molto interessante che è presente anche sul nuovo partner. Se parliamo di tecnologia non possiamo non menzionare la gamma motori di cui è dotato il nuovo Peugeot Partner, parliamo di motori diesel blu HD con potenze di 75, 100 o 130 cavalli, quest'ultimo abbinabile anche alla nuova trasmissione automatica e AT8 a 8 rapporti, una trasmissione molto apprezzata anche nel SUV della Casa del Leone, ma non solo. In Italia sono disponibili 4 diversi allestimenti, Pro, Premium, Grip e Asphalt, con questi ultimi due allestimenti che sono pensati per due impieghi diversi. Il Grip è pensato per chi ne fa un utilizzo un po' più gravoso, quindi è un mezzo dotato anche di Advanced Grip Control, quel sistema di motricità avanzato che abbiamo già visto anche sulla gamma dei SUV Peugeot, ma anche un'altezza da terra maggiorata, pneumatici dalla spalla più alta e delle accorgimenti mirati per un utilizzo appunto più gravoso del mezzo stesso. La versione Asphalt invece è pensata per chi passa tante ore al volante, quindi ha bisogno di un mezzo con diversi accorgimenti in ottica di comfort, ma anche di sicurezza alla guida. Pensiamo fra tutti alla presenza di serie del Surround View Monitor, quel sistema che ho già raccontato che permette di aumentare la visibilità attorno al veicolo. Il nuovo partner è ordinabile già da ora anche in Italia, con prezzi a partire da 14.380 euro, ed è stato recentemente eletto One of the Air 2019, un premio che conferma la qualità di un progetto davvero vincente.